Il Formedil ha avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto e il grande vantaggio che abbiamo avuto è quello di poter testare per la prima volta il nostro lavoro sul repertorio delle competenze, sulla certificazione e quindi sulla valutazione delle stesse. L'esperienza che noi abbiamo avuto presso la scuola di Napoli è stata molto interessante, i lavoratori hanno ottenuto l'accertamento delle unità di competenza e noi speriamo a questo punto che si possa replicare in tutte le altre realtà che saranno coinvolte sia nel protocollo di intesa che sarà sottoscritto, anzi che è già stato sottoscritto e di cui si parlerà nel pomeriggio, del convegno e anche nelle altre realtà che non hanno ancora sottoscritto questo protocollo. In effetti noi abbiamo la possibilità di portare avanti e di far rendere ancora più visibili le nostre iniziative e il lavoro di certificazione e valutazione delle competenze e la descrizione del nostro repertorio. Ci auguriamo con la regione Piemonte, ci auguriamo con la regione Toscana, con la regione Calabria e anche con la regione Lazio. Questo per noi è molto importante perché avendo proprio un decentramento delle nostre strutture su tutti i territori e anche i nostri formini regionali, abbiamo la possibilità di condividere questo momento che è fatto di collaborazione con le istituzioni pubbliche che hanno la governance sulla materia.